Il governo ribadisce l'importanza dell'intesa con la Tunisia sui migranti che sta già dando i primi frutti ma ora si teme una nuova ondata di arrivi dal Niger. L'obiettivo è frenare il flusso migratorio, impedire nuove stragi in mare, colpire i trafficanti di esseri umani. Su questo si muove il Viminale preoccupato dalla lunga ascea di morte lungo la rotta tunisina. Ma l'attenzione al governo è anche sulla guerra che incombe nel Niger in mano ai golpisti. Un conflitto che genera altra instabilità in Africa e potrebbe presto generare nuovi imponenti flussi migratori verso il Mediterraneo. 300.000 si calcola i migranti che potrebbero puntare verso la Tunisia per approdare poi sulle nostre coste. Il ministro Pianterosi ribadisce l'importanza dell'accordo che Italia e Europa stanno portando avanti con Qais Sayed. Dati alla mano l'impegno di Tunisi per blindare le frontiere ha già dato i primi frutti. Da gennaio sono più di 30.000 i migranti cui il governo magrebbino è impedito di partire alla volta dell'Europa e dell'Italia. A fronte dei 93.000 arrivati sulle nostre coste, 60.000 sono tunisini. Quasi tutti migranti economici a caccia di un futuro. In diverse missioni diplomatiche Europa e Italia hanno varato un pacchetto di aiuti milionario verso il paese nordafricano e hanno più volte ribadito la richiesta di blindare i confini interni che oggi, alla luce di quanto avviene in Niger, diventa una necessità. Per questo andranno avanti i programmi di collaborazione tra Bruxelles, Roma e Tunisi. Presto saranno consegnati 80 pick-up alla guardia di frontiera nordafricana e stanziati i fondi per assumere i migranti che stazionano nelle città tunisine quasi 100.000 arrivati da Guinea e Costa d'Avorio.